Di magia, scuola di notte, facciamo scuola di notte, scuola di moviglia, in quella scuola insegnavano a divertirsi, insegnavano a divertirci e noi di Living abbiamo capito bene come si fa, tutti diplomati e laureati nella scuola di divertimento e stanotte lo facciamo insieme a voi, baby! Harry Potter, and any boys, do you play some ladies? Vigilanzo in a poppar, come on, baby! Right down, right down, right down, right down, right down, come on, baby! Scusa, eh? Alessandro, non sei a distanza? Eh, ma becco male, sei? C'è un bel 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 e se ne sbaglio neanche in quel castello sono di paura negli attoramenti il mio figlio è un po' di più il mio figlio è un po' di più il coso che mi piace questa legge è veramente molto molto forte ragazzi e ragazzi per il tuo plesso per questo momento e di voi sei il mio compagno mio fratello mio brother mio frà da questo momento in poi Comincia ufficialmente il party living suona Mr. Vici Mario Cagliano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A presto Grazie a tutti Grazie a tutti il vertiglio il 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.